Ho un'immagine proprio ferma, i pad che verso l'1, 2, quelli all'inizio giù in fondo e parlavi con persone, io avevo un box lì vicino Tu non ti ricordi di me ovviamente, però tu eri già, per noi che iniziavamo eri Zanetti che veniva dal mondiale Infatti ripeto, io alla fine avendo la passione sono venuto dalla Stock 600 addirittura, c'è anche magari tanti che fanno il mondiale Infatti era Zanetti che ricomincia dalla Stock 600 Però alla fine io sono venuto, giovedì, prendevo 4 secondi da Masei, venerdì 3, sabato 2, in gara secondo